I lavoratori del terzo settore del Tiguglio saranno coinvolti nella campagna estiva di prevenzione sui corretti stili di vita, in particolare alimentari. La promuove l'ASL4 dopo quelle dedicate a diabete e al cuore. Partiti anche in Liguria i saldi estivi, la novità di quest'anno è il doppio prezzo sul cartellino per evitare i raggiri. Per i commercianti un momento importante ma che arriva troppo presto. Regione Liguria ha fatto due nuovi bandi per aiutare le imprese in interventi di efficientamento energetico ed economia circolare. In totale stanziati 8 milioni di euro. La parrocchia di Santo Stefano del Ponta se si levante si appresta a vivere la solennità del Carmine. Il tema della coscienza sarà il filo conduttore della novena. Venerdì 14 incontro serale aperto alla città. 24esima edizione della festa del Fieno a Mezzanego. I cittadini si riuniscono questo fine settimana per sfalciare insieme le strade comunali. Al termine un pranzo insieme offerto dal comune. A Lavagna torna musica e gusto. Nove le bande dislocate in diversi punti della città decine l'attività che proporranno i piatti della tradizione culinaria del territorio. Undicesima edizione in programma venerdì 14 luglio. Promozione in serie A per la Chiavari Canoa Polo Academy. La società di Marco Porzio taglia il traguardo dopo una saggione in vetta alla classifica. Il prossimo anno sarà derby con la Pro Scogli. Buonasera, buonasera a tutti, gentili telespettatori, benvenuti nei nostri studi. Sanità in apertura nel giornale. I lavoratori del terzo settore del Tigulio saranno coinvolti nella campagna estiva di prevenzione sui corretti stili di vita, in particolare quelli alimentari. La promuove l'azienda sanitaria locale dopo il successo di quelle dedicate al diabete e al cuore. Decine le realtà che hanno aderito tra associazioni e cooperative, sentiamo quali, nel servizio che segue. Estate, tempo di cene, grigliate, gelati. Chi esagera ma affronta già un quadro delicato può incorrere in problemi legati ad una errata nutrizione. Per questo ASL4 è pronta a partire con una nuova campagna di prossimità, la terza dopo quelle dedicate al diabete e al cuore, questa volta incentrata sugli stili di vita e le abitudini alimentari. Coinvolgerà persone in età lavorativa, quindi comunque persone maggiorenni. Ci sarà un IF a bordo del Gulliver e un dietista che somministreranno alcuni parametri vitali molto semplici come il Body Mass Index, la circonferenza vita e un questionario dedicato alle abitudini alimentari. Le verifiche verranno condotte in questo caso tra i lavoratori del terzo settore, un mondo che sul territorio conta su oltre 60 realtà tra associazioni e cooperative. Questa collaborazione con la ASL che si sostanzia anche di un accordo quadro per azioni anche più complesse direi che ci rende felici e partecipiamo veramente con gioia a questa iniziativa. Le persone che saranno trovate a rischio, ad esempio in sovrappeso, con obesità patologica o altre patologie metaboliche verranno inviate ad un successivo livello di analisi e controlli. Viene inviato allora alla dietologia dove appunto verrà effettuata una prima valutazione dietologica e una serie appunto di esami che consentirà di inquadrare correttamente il paziente e eventualmente verrà poi proposta una dieta o comunque tutta una serie di indicazioni e di consigli per migliorare il proprio stile di vita. Alla campagna estiva infine ne seguirà una autunnale, la quarta e ultima promossa da ASL4. Dopo le farmacie, i luoghi di lavoro e il terzo settore i controlli saranno effettuati tra i banchi di scuola. Andremo a occuparci di malattie respiratorie, di tutti quelli che sono i problemi correlati non soltanto all'insufficienza bronchiale, all'asma allergica, ma anche purtroppo a quello che il fumo provoca dal punto di vista della difficoltà respiratoria, soprattutto in prospettiva. La novità del doppio prezzo sul cartellino a caratterizzare l'avvio dei saldi estivi 2023 da oggi sono iniziate, le vendite scontate nei negozi e questa mattina siamo andati a fare due passi a Lavagna. Vediamo. Saranno all'insegna della trasparenza grazie alla direttiva europea Omnibus che ha introdotto la regola del prezzo precedente. I saldi estivi prendono il via anche nel Tiguglio con il doppio prezzo sul cartellino, oltre alla percentuale di sconto viene adesso riportato anche il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni precedenti e non più quello di listino. Una novità che vale sia per i negozi fisici che per le vendite sul web. Al via in tutte le regioni lo stesso giorno, per i commercianti l'inizio dei saldi arriva però sempre troppo presto. Iniziano davvero troppo presto, quindi è iniziata diciamo l'estate da qualche giorno che già iniziano i saldi. Tra l'altro noi tra un mesetto, i primi di agosto, faremo le quattro palanche, quindi insomma è sempre una data sempre diciamo troppo anticipata. Così come nel resto delle località del Tiguglio, anche a Lavagna i saldi sono partiti con una mattinata tranquilla, con tanti turisti diretti alle spiagge, diverse persone nei negozi per cercare l'occasione da non perdere e qualcuno seduto a far colazione ai tavolini del bar. Sì sì sì, devo dire che Lavagna è abbastanza movimentata, c'è abbastanza diciamo turismo e iniziano anche ad esserci diversi eventi organizzati anche dal comune. Per il CIV Centro Storico di Lavagna si preannuncia un luglio ricco di iniziative, tra cui la ripartenza al 14 luglio di Musica e Gusto. L'Associazione dei Commercianti Lavagnesi ha visto anche la ritrovata adesione all'ASCOM ConfCommercio di Chiavari e Lavagna. Si è davvero creato un legame strettissimo con ConfCommercio, con il suo presidente della delegazione di Chiavari e Lavagna, Aldo Pessagno. È una collaborazione davvero costruttiva perché ci permetterà anche di aderire a progetti sia regionali che europei per poter avere dei finanziamenti e il CIV ha davvero bisogno di riuscire a inserirsi in questo circuito perché i finanziamenti ci sono, si possono ottenere e sono fondamentali per una rinascita del CIV stesso ma della città di conseguenza. Si è riunito il primo Consiglio di Amministrazione di AMT successivo all'Assemblea dei Soci del 29 giugno, confermato il conferimento di tutte le deleghe al presidente Ilaria Gavuglio, mentre è stato nominato Enzo Sivori come vicepresidente. Nel CDA dell'azienda Trasporti Genovese è entrata a far parte Giorgio Canepa, esperto di finanza, controllo e logistica, che si unisce a Sabina Anzona, esperta di comunicazione d'impresa, e Manuela Bruzzone, esperta di sistemi di qualità certificati. Il collegio dei sindaci infine è composto da Luca Verdino, presidente, e dei sindaci effettivi Daniela Rosina e Giovanni Costa. Regione Liguria ha presentato due nuovi provvedimenti in favore delle micro, piccole e medie imprese che investono in efficienza energetica e in economia circolare. Sentiamo di cosa si tratta nel servizio che segue. L'obiettivo è consumare meno, sprecare meno e quindi anche spendere meno. I due nuovi bandi presentati dalla regione finanziano le medie e piccole micro imprese per fare interventi di efficientamento energetico o di economia circolare. Il primo è da 4 milioni di euro divisi tra fondo perduto e prestito, a copertura dell'80% dell'investimento fatto. Il bando finanzia interventi di riqualificazione energetica di immobili o degli impianti produttivi finalizzati alla digitalizzazione e alla misurazione intelligente per limitare il consumo di energia, la sostituzione degli impianti e dei macchinari con nuovi e più efficienti. Sarà attivo dal 21 al 27 luglio e finanzia gli interventi realizzati e rendi contati entro il 30 settembre 2024. Interventi strutturali, interventi sui macchinari, sugli impianti, sulle metodologie, poi sentiremo il dettaglio un pochino più articolato, sono circa 4 milioni e sono convinto che andrà un po' via come ghiaccioli in giornate calde come questa. Il secondo bando finanzia progetti finalizzati alla conversione da un approccio lineare a uno circolare, ossia il recupero e la valorizzazione degli scarti organici dei processi di produzione. Tra le iniziative finanziabili, ad esempio, ci sono i costi per le opere edili ed impiantistiche, per l'acquisto di macchinari, per gli impianti produttivi e per le attrezzature. Anche qui il finanziamento è di 4 milioni, gli interventi vanno realizzati e rendi contati entro il 30 settembre 2024. Si può aderire dal 26 al 21 luglio. Io credo che in questo momento si debba dare, al di là delle chiacchiere che si fanno, non si debbano dare degli strumenti da utilizzare domani alle piccole imprese, perché altrimenti tutta questa supposta transizione diventa un percorso nel deserto che non porta a nessuna parte. In entrambi i casi i fondi arrivano dal programma regionale finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Buona notizia di Cronaca. Un'auto ha scontrato contro un palo in via Parma a Chiavari poco prima delle 18.30 di oggi. L'impatto è avvenuto a bassa velocità. Il conducente, un uomo di 50 anni, era in arresto cardiaco ed è stato rianimato dagli operatori del 118. L'ambulanza della Croce Rossa di Cogorno lo ha portato all'ospedale di Lavagna. L'ipotesi del personale sanitario è che abbia avuto un malore mentre guidava e per quel motivo abbia perso il controllo del mezzo. La parrocchia di Santo Stefano del Ponte a Sessi Levante si appresta a vivere la solennità del Carmine. Il tema della coscienza sarà il filo conduttore della novena che prende il via domani mattina con la Santa Messa alle ore 7 in chiesa e alle 8.30 alla Madonnina del Grappa. Venerdì 14 in programma una serata di riflessione estesa a tutta la città. Vediamo. Nella chiesa la coscienza l'abbiamo mandata a dormire è la domanda seria e profonda che la comunità di Santo Stefano del Ponte rivolge a tutti in occasione della festa della Madonna del Carmine a Sessi Levante. Viviamo in un tempo, spiega il parroco, in cui vogliamo affrontare un rinnovamento. I grandi nemici della coscienza sono il politicamente corretto, i luoghi comuni, il non disturbare chi gestisce le cose, chi organizza le cose. La coscienza è una voce, oggi un po' confusa, ma che chiede, che chiama. La domanda sarà affrontata in un incontro aperto alle famiglie della parrocchia ma esteso anche a tutta la città e non solo. Venerdì 14 luglio, alla sera alle 21, forse sul piazzale della chiesa, forse dentro la chiesa dipende come il cielo comanderà, abbiamo invitato Donaristi Fumagalli, che è un docente di teologia morale nella zona del Milanese, sia per la formazione del seminario Lombardo, del Venegono, ma sia per la facoltà teologica. Venerdì 7 luglio prende il Via La Novena, un percorso che sarà accompagnato dall'immagine biblica del vecchio sacerdote Eli e del ragazzo, Samuele, che sente una voce nella notte. Siamo in un tempo di notte della chiesa, forse sì, però è certo che Dio non smette di parlare e non smette di chiamare e quando chiama, chiama per nome e non chiama solo per le proprie cose, ma chiama per qualcosa che riguarda tutti. La parrocchia del Ponte celebra quest'anno la solennità della Beata Vergine del Monte Carmelo, il giorno stesso della festa, domenica 16. Alle 9 del mattino la messa con il vicario della Diocesi, Don Stefano Mazzini, seguirà la processione. Entra dentro tutta la città fino alla Basilica di Santa Maria di Nazareth, lì celebra di nuovo l'Eucarestia e ritorna indietro. È il cammino della solenne processione penitenziale che da tantissimo tempo si svolge nella nostra città. La Diocesi di Savona Noli piange alla scomparsa di Don Agostino Paganessi, aveva 78 anni, era uno dei canonici del capitolo della cattedrale, ex parroco nella comunità di Santa Maria Ausiliatrice e San Filippo Neri a Savona e di San Matteo Apostolo in Luceto, frazione di Albisola Superiore. Nel 2021 a Brindisi gli viene conferito il premio Bontà per la sua opera nei confronti dei bisognosi. Domani, venerdì 7 luglio, sarà celebrato il rosario in cattedrale alle ore 18, sabato 8 luglio il vescovo Monsignor Giro Marino presiderà il funerale. Sabato e domenica a Mezzanego c'è la ventiquatresima festa del Fieno, appuntamento in cui i cittadini si ritrovano e sfalciano insieme qualche chilometro di strada comunale. Un modo per stare insieme e mantenere pulite le strade senza spese per il comune, che offre il carburante e anche un pranzo per tutti i partecipanti. Vediamo. Domenica c'è la festa del Fieno, un appuntamento in mezzanico, ecco intanto cosa si fa alla festa del Fieno? La ventiquatresima edizione, i cittadini volenterosi danno una mano al comune a sfalciare i cili delle strade comunali, così contribuendo anche a un sostanziale risparmio delle casse comunali. Si svolge in questo weekend tra l'8 e il 9 di luglio, nelle prime ore del mattino e poi visto che è finita la pandemia riprendiamo la tradizionale usanza di fare poi un pranzo insieme presso i locali della chiesa di Vignolo che inizierà a mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo inizia questo pranzo e così trascorriamo poi un paio di ore insieme. Quali sono le strade che saranno interessate dallo sfalcio? Isola di Borgolnovo, Correralo Borgolnovo, Vignolo Piano, Vignolo Alto, poi c'è alcune strade su Bocco Sacchetto che attraversano la nostra collina, principalmente sono queste strade, alla fine comunque riusciamo a pulire circa una decina di chilometri di strada per cui è una cosa molto importante. Come si fa a partecipare? Ma praticamente noi forniamo la benzina e ognuno con i propri mezzi di spugliatori, rastrelli, quelle cose lì dotato di mezzi di autoprotezione fa un pezzettino di strada vicino magari a casa o insieme ad altri cittadini si formano delle comandate per pulire anche nei nostri vicino, le strade di collegamento ai cimiteri tipo Borgolnovo. Un modo per stare insieme e anche per fare una cosa utile a tutta la cittadinanza? Ma sì sicuramente, un modo di socializzare ma allo stesso tempo si dà un grosso contributo al comune, alla cittadinanza, a noi stessi perché c'è un significativo risparmio nelle casse del comune. La Liguria prosegue la sua lotta alla cimice asiatica, una cimice dannosa per le coltivazioni agricole, in particolare per i frutteti. Il servizio fitosanitario della regione Liguria effettuerà i rilasci programmati della Vespa Samurai, un insetto antagonista di grande efficacia che non comporta rischi per l'uomo e non causa danni alle api o ad altri animali. Si parte domani, 7 luglio, nelle province di Genova e La Spezia per proseguire l'11 a Imperi e Savona. In totale saranno rilasciati oltre 3.000 esemplari. Le gallerie tra Sessi, Levante e Moneglia resteranno chiuse per lavoro nel tratto compreso tra via Pomzerone e località Valle Grande, da mezzanotte fino alle 5 del mattino per due notti consecutive, tra lunedì 10 e mercoledì 12 di luglio. Torna a Lavagna, venerdì 14 luglio, l'appuntamento con Musica e Gusto, la manifestazione che promuove il divertimento e la buona tavola. Decine le realtà cittadine coinvolte che proporranno i piatti dell'Eno Gastronomia Locale, 9 le bende che si esibiranno in diversi punti della città. Vediamo il servizio che abbiamo realizzato. Oltre una cinquantina di ristoratori e di pubblici esercizi coinvolti con il meglio dei piatti e delle pietanze del territorio. 8 luoghi della città trasformati in palcoscenici per altrettanti gruppi a cui si aggiungerà la musica itinerante di una street band. Torna con questi numeri a Lavagna dopo uno stop di 3 anni, la manifestazione Musica e Gusto che per la sua undicesima edizione mette insieme ancora una volta buona tavola e divertimento. Lavagna finalmente possa ripartire con questo evento che caratterizza e ha sempre caratterizzato la propria estate attraverso un commercio pronto, attraverso tante attività commerciali che con grande entusiasmo hanno aderito a questa iniziativa e faremo in modo di confermare questa nostra forza e qualità che abbiamo sempre trasmesso a tutti coloro che sono sempre venuti a trovarci in questa serata. Alle 18 sarà aperto in via Nuova Italia il mercatino dell'artigianato, per l'intera serata resteranno aperte tutte le attrazioni turistiche e culturali della città tra cui il giardino di Casa Carbone dove ci si potrà sedere per un aperitivo e la studiosa di storia locale Francesca Marini accompagnerà i visitatori alla scoperta di una lavagna by night. Nove poi le realtà musicali che animeranno le piazze e le vie per tutta la serata dal corpo bandistico Città di Lavagna fino ad arrivare all'itinerante banda molleggiata, passando per gli amici di Serena, la Mandirola, Festa Bella, Dance to the Future, Cance e Vaccarino, The Mewchers e DJ Hypnoisia. In ogni piazza, nelle principali piazze ci sarà una band, a partire quindi da Piazza Marconi, quindi dalla Basilica, scendendo comunque ci sarà in ogni piazza della musica e in più ci sarà la solita band itinerante che quest'anno comunque viene da fuori e allieterà quindi poi tutte le piazze e tutte le vie. Quindi musica per tutti i gusti e musica dappertutto. Riccardo D'Antoni è il primo acquisto dell'Unione Sportiva Sessi Levante per la prossima stagione, la prima in Serie C da 74 anni. Lo vedete in questa foto, D'Antoni è nato a Savona nel 2002, gioca nel ruolo di attaccante. La scorsa stagione ha giocato in Serie D con lo United Riccione, segnando 9 gol in 32 partite. In carriera ha indossato la maglia di Vado in Serie D, 29 presenze e 4 gol, Pistogliese in Serie C con 16 presenze e 1 gol. In questi giorni la società ha anche annunciato la riconferma di diversi giocatori, Pane, Raggio Garibaldi, Anacura, Oliana, Parlanti, Furno, Masini e Conti. Il primo tassello sistemato per la Lavagnese in vista del prossimo campionato di Serie D. La società ha trovato l'accordo per l'arrivo in bianco-nero di Giorgio Lionetti, classe 1998, centrocampista centrale o mediano, cresciuto nelle giovanili del Catenzaro, poi in prestito al Potenza a 19 anni e con varie esperienze in Serie D e in Serie C. Con la Lucchese ha vinto il campionato di Serie D nella stagione 2019-2020. Solo un anno fa festeggiava la promozione in Serie A1. In questi giorni è centrato un nuovo salto di categoria, quello del massimo campionato nazionale. Per la Chiavari Canoa Polo Academy è arrivato un altro importante traguardo ad appena tre anni dalla nascita. L'anno prossimo dunque Chiavari con la Proscogli avrà due squadre di Canoa Polo in Serie A. La promozione è arrivata, l'impegno è stato tanto. Quest'anno ci eravamo prefissati due obiettivi, vincere l'Under 16 perché avevamo una squadra molto forte, infatti siamo campioni d'Italia. E qua vicino a me c'è il capitano, l'anno prossimo giocherà poi in Under 18. E poi con la prima squadra, senior, riuscire, l'anno scorso avevamo vinto il campionato di Serie B. Quest'anno abbiamo approcciato la Serie A1 con un occhio di riguardo, vedere dove potevamo arrivare. A un certo punto io mi sono accorto che avevamo le carte in regola per salire direttamente. Allora abbiamo dato un'accelerata e abbiamo chiuso il campionato primi a sei punti dalla seconda. Praticamente avevamo già vinto a quattro partite dalla fine, quindi diciamo quasi imbattuti. Come vi state preparando al prossimo anno? Guarda, io sicuramente parlando con tutta la squadra stiamo cercando di nuovi innesti, anche perché i giovani è giusto che crescano anche in una dimensione con meno stress. A parte lui che credo che se lo voglia e se avrà la disciplina potrà sicuramente far parte della rosa della prima squadra. Ma c'è bisogno di esperienza e di molta fisicità perché la Serie A iniziamo a giocare con i pezzi contro i pezzi da 90. Oltretutto adesso sono rimaste da quest'anno, ci sono solo nove squadre in Serie A e sono tutte di livello quasi internazionale. Non si può andare lì e fare la comparsa. Complimenti tanto per la vittoria del campionato. Che stagione è stata per te? Per me è stata una stagione abbastanza bella, importante, perché non avevo ancora vinto niente. Io con la società non avevo mai fatto un'esperienza del genere, soprattutto adesso che mi è stata data l'opportunità di andare a giocare in nazionale, andare a 18. E che impegno sarà? Sarà un impegno abbastanza, sarà grande come impegno secondo me. Non vorrei fare un anno in nazionale e basta, quindi vorrei continuare questa importante scalata verso la senior. Riprendono gli scambi culturali Tigulio-Valditaro, un'iniziativa promossa dalla sezione Tigulia dell'Istituto di Studi Liguri che prevede uno scambio di notizie di carattere storico tra i due comprensori attraverso un primo incontro a Bedonia, seguito in contraccambio da uno a Chiavari in settembre. L'incontro di Bedonia avrà luogo sabato 22 luglio con inizio all'ora 10. La località della Val di Taro sarà raggiunta in Pullman. Occorre prenotare il posto entro il 17 di luglio inviando una e-mail all'indirizzo info-lascito-cunio.it. La quota è di 50 euro ed è compressiva di viaggio e anche di pranzo. E ora come di consueto la scheda degli appuntamenti per la giornata di domani. Può partire la sigla. Gli appuntamenti di venerdì 7 luglio e aperta le visite la mostra Il nostro Pinocchio 2023 nello spazio espositivo Casoni di piazza San Giovanni a Chiavari. Sono esposte le avventure del burattino riprodotte in 24 xilografie e organizzate dall'associazione Il Mosaico gruppo di arte e terapia Josef Roverano. Si vede dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Al campo sportivo di Levi c'è The Sound of Beer. Dalle 18 festival della birra e musica con Gigo Watt e De Do Rossi. Al Lago delle Lame in Rezzoaglio inizia il 25esimo festival celtico dalle 18 di venerdì fino alle 21.30 della domenica seguente. Inaugurazione della mostra fotografica Chiavariè di Darko Perrone e Marisa Ballabio alle 19 negli spazi degli uffici in banchina del Marina Resort Calata Ovest. Alle 20 alla Malga Zanoni di Borzonasca presentazione del film Alta Via, Storie di Cielo, Terra e Mare. Serata agli osservazioni con l'associazione culturale Sestante al Parco Mandela il Sestilevante dalle 21.00. In particolare si guarderà col telescopio La Falce di Venere. All'auditorium di Largo Pestagno a Chiavari c'è la presentazione del libro La Necropologia Buana di Edoardo Ratti a cura del Museo archeologico di Chiavari, inizio alle 21.00. Nel giardino dei lettori della società economica di Chiavari Marco Ansaldo presenta il libro La Marcia Turca in dialogo con Antonio Gozzi, editore di Piazza Levante che organizza l'evento, inizio alle 21.00. A Santa Margherita Ligure inizia il premio Bindi, la rassegna dedicata alla canzone d'autore. Alle 21.30 all'Anfiteatro Bindi c'è un omaggio a Giorgio Gaber, morto vent'anni fa. Presenti Giampiero Aloisio, Neri Marco Re, Ginevra, Federico Sirianni e l'orchestra dell'Accademia del Chiostro. Sul sagrato della parrocchia di San Michele di Pagana di Rapallo inizia la rassegna sotto il campanile. Dalle 21.30 a Maratona di letture sotto le stelle con Radio Aldebaran. Necessario prenotare scrivendo al numero 338 15 83 448. Bene, con la scheda degli appuntamenti termina il giornale. Il prossimo appuntamento con l'informazione è come sempre rinnovato a domani, alle ore 12.45 con il Tg di Telepace. Grazie per la vostra cortesa e attenzione. Vi lascio ai programmi serali sulla nostra emittenta augurandovi una buona serata. Arrivederci. Grazie per la vostra corte.